La tessitura di immagini e note è una razza in cui non si rintracciano più i nodi dell'ordito e di certo nella storia del cinema non è facile rivenire una coesione artistica altrettanto felice e indissolubile. Statuto nella presentazione dello spettacolo, la sottile magia che circonda in un'aura elegante, la rappresentazione dell'amico magico, concerto a due voci di Federico Fellini e Nino Rota. Lo spettacolo, con la regia di Gianfranco Angelucci, è stato portato sul palco del Forte della Maddalena dalla poliedricatrice Milena Vukotic, che ha letto stralci di interviste e pensieri in libertà espressi in carriera da Fellini, con il delicato accompagnamento musicale della pianista Angela Annesa, che ha rivestito i panni del musicista Rota.